Musica In questo appuntamento con Unicam News in apertura al piano lauree scientifiche per la chimica, conclusosi nei giorni scorsi. Parleremo poi dell'importante convegno regionale sulla veterinaria svoltosi in Ateneo. Presentate a Roma gli otto vincitori e gli ospiti dell'edizione 2013 di Musicultura. Parleremo ancora della stretta collaborazione tra la Scuola di Architettura e Design ed il Comune di Ascoli Piceno. Infine, dell'incontro in Ateneo su impresa e alto apprendistato. Bentrovati a questo appuntamento con Unicam News. Abbiamo sentito i titoli, allora partiamo subito con il primo servizio. Musica Si è tenuta nei giorni scorsi la giornata conclusiva delle attività del piano lauree scientifiche per l'anno accademico 2012-2013. Chi ha avuto come tema adotto un elemento, un invito alla tavola periodica. Sono intervenuti oltre 30 studenti delle scuole superiori di Camerino, Tolentino, Fabriano Iesi e Civita Nova Marche che hanno aderito al progetto e che hanno presentato il lavoro svolto sull'elemento chimico a loro assegnato. Il piano lauree scientifiche, coordinato per Unicam dalla professoressa Rosanna Galassi, è un progetto nazionale che vede coinvolti gli Atenei con l'obiettivo di far conoscere le materie scientifiche, tra cui la chimica, agli studenti delle scuole superiori e stimolare le vocazioni scientifiche, anche grazie alla collaborazione degli insegnanti. All'incontro ha partecipato anche il professor Marco Taddia dell'Università di Bologna che ha tenuto un seminario su la classificazione di Mendelew, un colpo di genio al termine della giornata e si è tenuta la premiazione degli studenti. L'Università di Camerino ha ospitato nei giorni scorsi il secondo workshop sulla veterinaria in rete, non solo veterinaria, pronto soccorso e prime interventi degli animali in stato di necessità, gli animali d'affezione, al quale hanno partecipato professionisti ed esperti provenienti da tutto il territorio regionale. L'importanza è quella di garantire un sistema di pronto soccorso reale su tutto il territorio della regione. Gli obiettivi futuri quali sono? Quelli proprio di sviluppare un sistema a rete tra veterinaria pubblica e veterinaria privata per garantire questa attività. Questo perché il sistema sanitario nazionale, quindi anche il sistema sanitario regionale deve garantire il pronto soccorso dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio, sia che essi siano randagi e sia che essi siano di proprietà come pronto soccorso. Poi però questa attività può essere garantita o direttamente tramite il personale del sistema sanitario oppure utilizzando, come stiamo dicendo anche oggi, il sistema a rete dei veterinari privati che ci sono sul territorio. Penso in questo caso a tutti i titolari di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari. Questo proprio per poter dare un'assistenza di pronto soccorso 24 ore su 24. Il sistema di base deve poter dare un'assistenza di primo livello. Quello che è il secondo livello, quindi quelle che sono le assistenze più particolari, più difficili, più complicate debbono essere garantite dagli ospedali veterinari, sia essi privati e sia anche dall'ospedale didattico veterinario della Facoltà di Camerino. Nell'ambito del convegno è stata anche inaugurata l'ambulanza veterinaria levriera che presterà servizio sul territorio della Regione Marche e potrà supportare anche le attività dell'ospedale veterinario universitario didattico di Unicam. Come tutti ormai sanno, il perseguimento del benessere animale e la tutela del benessere animale, quindi della salute animale, è indirettamente riferito anche a quello della salute umana. Quindi aver organizzato nel nostro ambito di Ateneo di Camerino una struttura H24 altamente specializzata con una dotazione di moderne strutture biomedicali a disposizione del territorio. Quando dico del territorio dico anche delle altre in collaborazione con le altre componenti della medicina veterinaria regionale a partire dai libri professionisti, è un passo avanti molto importante. Anche questo servizio di ambulanza veterinaria si colloca proprio in questo sistema a rete che stiamo ormai da anni portando avanti con tutte le componenti della medicina veterinaria regionale. È un valore aggiunto che sarà gestito dall'Associazione di Volontariato Animalista ANTA e che indubbiamente collaborerà inserita in questo sistema a rete per migliorare il servizio che riusciremo a dare nella direzione appunto che richiamavamo prima quella del perseguimento della sanità animale, del benessere animale, ma alla fine del benessere dell'ambiente tutto. Sono stati presentati ufficialmente presso la sede RAE di Via Siago a Roma gli otto artisti che si contenderanno la vittoria finale di questa ventiquattresima edizione del festival nel corso delle serate finali del 21, 22 e 23 giugno all'Arena Sferisterio di Macerata. Presenti a Roma anche il rettore Unicam Flavio Curradini ed una rappresentanza della giuria di studenti che hanno incontrato anche alcuni degli ospiti d'eccezione che saliranno sul palco nel corso delle tre serate presentate da Fabrizio Frizzi. Anche quest'anno infatti Unicam lega la propria immagine alla musica d'autore dando agli studenti la possibilità di essere i protagonisti di questa iniziativa di così alto valore culturale che permette loro di coniugare la vita universitaria con altre esperienze altrettanto formative. L'appuntamento è dunque per i prossimi 21, 22 e 23 giugno all'Arena Sferisterio. Sono stati presentati nei giorni scorsi nell'ambito dell'incontro a Pit Town Identity valorizzare l'identità di Ascoli Piceno i risultati delle ricerche realizzate dalla Scuola Unicam di architettura e design nell'ambito del progetto Ascoli nel futuro promosso dal comune di Ascoli Piceno. I due progetti Unicam coordinati dalla professoressa Lucia Pietroni riguardano il restyling del logo istituzionale del comune di Ascoli Piceno e la redazione del manuale di identità visive d'immagine coordinata e uno studio preliminare per la redazione del manuale di arredo urbano di Ascoli Piceno. Il restyling dello stemma istituzionale consente una più razionale, omogenea ed efficace riproducibilità grafica e una più corretta gestione attraverso la realizzazione e la divulgazione del manuale di identità visiva. Sono state poi definite le linee guide, le indicazioni per un futuro e condiviso sviluppo di un manuale che consenta di gestire la qualità del design degli spazi e dei servizi pubblici della città. Ai due progetti di ricerca hanno partecipato numerosi docenti e giovani ricercatori della Scuola di Architettura e Design in stretta collaborazione con dirigenti e dipendenti dell'amministrazione comunale. È per il prossimo 19 giugno l'appuntamento a Camerino con il convegno investire nel capitale umano, impresa ed alto apprendistato. A questo importante appuntamento hanno dato il loro patrocinio la Regione Marche e Confindustria Marche nonché altre importanti associazioni di categoria. L'incontro sarà l'occasione per un confronto tra rappresentanti del mondo accademico e del mondo imprenditoriale per affrontare i temi riguardanti il processo di innovazione dei percorsi formativi. Non mancherà anche uno sguardo all'Europa con una testimonianza di un'azienda teresca. E con questo è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo inoltre che potete trovare tutte le informazioni sull'Università di Camerino nel sito www.unicam.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.